Expo Venne in Sud 2023 continua, ci troviamo allo stand della Coveda e siamo in compagnia di Emanuele Bianchi, il responsabile commerciale di End End, che è una società britannica con sede anche in Italia e che si occupa di servizi e soluzioni per il vending. Emanuele è un gran piacere trovarti di persona qui a Expo Venne in Sud 2023. Grazie Fabio, è un piacere anche per me, sono onorato di essere intervistato in questa sede, siamo qui con i colleghi di Coveda proprio per presentare queste nuove soluzioni che abbiamo sviluppato proprio per le macchine vending. Noi proprio in occasione di Venditalia 2022 avevamo intervistato Tarcisio Vergani, che è il CEO dell'azienda, che ci aveva spiegato in pochi minuti di cosa si occupa End End End. Oggi abbiamo altri cinque minuti per andare ad aggiungere qualcosa in più, qualche altro dettaglio alla vostra mission. Fondamentalmente adesso noi stiamo lavorando per il 60% su un settore che è quello del vending e un 40% che è un settore extra vending. Quindi secondo me stiamo appunto diversificando un po' quello che era la mission iniziale. In questa sede invece stiamo presentando proprio questa soluzione che è dedicata a macchine Necta, Bianchi e Ducale che favoriscono una nuova vita, una seconda vita alle macchine che eventualmente si possono rigenerare e revisionare in ambito tecnico. Diciamo anche che attraverso le soluzioni proposte da End End è possibile realizzare controllo in remoto delle macchine, dei consumi, con tanti parametri a disposizione. Sì, il monitor, il touch è interfacciato tramite una sim appunto per remotizzare una serie di dati che poi possono essere inseriti o in un gestionale che uno ha già oppure comunque tramite un portale che abbiamo a disposizione noi. Questa serie di dati vanno dalla consumazione, dal fatto di vedere fino a quando il cliente si ferma a scegliere la bevanda, al consumo economico, alla spesa, insomma una serie di dati che interessano in particolar modo il gestore. Senza dimenticare l'apporto dato dal Dynamic Digital Signage proprio sui vostri display attraverso i sistemi di comunicazione gestiti dalla società. Sì, attraverso il portale noi possiamo intervenire anche in tempo in real time a modificare il touch, a personalizzare il touch, a rendere user friendly tutto quello che è il messaggio e l'interfacciamento con il cliente. Qui in Sicilia collaborate con Coved, in tutta Italia avete delle collaborazioni con altre gestioni e altri rivenditori, ma per tutti coloro che non sono ancora in contatto con voi vogliamo fornire un indirizzo di posta elettronica per potervi scrivere, richiedere maggiori informazioni e chissà andare a elaborare una nuova relazione commerciale? Sì, hai detto bene, nel senso che adesso siamo alla ricerca di partner all'interno del territorio nazionale che favoriscano la commercializzazione di questo prodotto con dei corsi di aggiornamento, con dei corsi di perfezionamento. Praticamente la nostra email è info-anditalia.com e poi eventualmente noi dirotteremo le richieste eventualmente al rivenditore più vicino. O quantomeno al funzionario più interessante affinché possa appunto mettersi in contatto con chi scrive e dargli maggiori informazioni. Emanuele è stato un gran piacere rivederti da vicino e ancora di più farti esordire sui nostri schermi. Grazie per la collaborazione. Grazie a te Fabio e buona fiera a tutti.